Per questo periodo autunnale facciamo la tradizione vicentina, il rosto d'anatra all'arancio con la coscia e poi una grigliata bicolore. La rosto d'anatra è una coscia d'anatra disossata farcita all'arancio con spezie e va rosolata per circa 15 minuti e poi cotta in forno un'ora e un quarto. Va servita con delle patate al forno con vino rosso. Il secondo piatto è una grigliata bicolore fatta con del maiale e della carne di sorana. Cotta ai ferri naturalmente, intorno c'è del lardo aromatizzato che dà molto sapore e va servita con della verdura grigliata con del vino rosso, merlotto. Grazie Grazie Grazie